Nonostante la diversità di culture e di provenienze, le persone che lavoravano all'Olivetti, i giovani che furono chiamati tra i vrei d'Alterraneo Olivetti, raccolti da diverse parti d'Italia, avevano molti rapporti tra di loro perché era un'azienda con pochi compartimenti stagni. Per dirne una, nell'Olivetti non esistette per molti anni alcun organigramma. L'organigramma è uno strumento importante per la gestione dell'azienda, ma è anche un separatore, è anche uno strumento che categorizza, colloca le persone in certi reparti piuttosto che in altri e li separa. Non ci sarà un rapporto diretto, ma sta il fatto che sebbene l'Olivetti avesse la divisione produzione, nella direzione commerciale e così via, come è ovvio, non esistevano confini rigidamente definiti da un organigramma. I primi organigrammi furono disegnati dal mio ufficio diversi anni dopo che l'Alterraneo Olivetti era scomparso. I contatti erano continui tra persone che facevano parte di direzioni differenti. La fascia di servizio sociale stava proprio davanti alla fabbrica, operai tecnici impiegati e venivano a prendere libri o frequentavano le conferenze, così facevano i tecnici. C'era un antirivine continuo tra lo stabilimento e la fascia di servizi sociali. E anche Villa Casana dovebbe sede la direzione della presidenza prima della costruzione del Palazzo Uffici verso Pavone, verso l'esterno di Ivrea. Avevano anche molti rapporti con Milano, con la grande direzione di via Clerici a Milano dove aveva sede la pubblicità e l'attività che oggi si chiamerebbe di comunicazione. Io stesso dovete recarmi molte volte a Milano in via Clerici, benché facessi un mestiere del tutto diverso.